All'inizio ero un po' spaventato quando lui mi disse dobbiamo scrivere un brano per lui, ho detto ma non so appunto che scrivere, cosa scrivere, che scrivo. Poi ho ricordato questo incontro e poi guardando anche qualche intervista su intervista, allora poi mi è venuto così di getto e ho appunto apprezzato il fatto che molto di quello che si è detto appunto è riassunto in questo, ho cercato di fare un sunto in questo brano di questa canzone che ora vi faremo ascoltare, che si intitola, il titolo è Non saremo eroi, proprio perché penso che l'obiettivo principale sia di tutti noi, oggi siamo chiamati, siamo qui presenti, però quello che ci viene chiesto appunto da queste persone che hanno dato la propria vita, anche per noi, per la nostra Palermo, è proprio quello di essere un po' tu, o non essere tutti eroi, o essere tutti eroi, allora o siamo tutti eroi e non lo fa più nessuno, l'eroe deve essere più come una normalità, non deve essere un alieno o qualcosa, perché se ognuno fa un poco, mettete il poco, allora possiamo avere dei risultati, se noi aspettiamo sempre l'eroe che arriva da un altro pianeta, allora rimarremo così per molto tempo, quindi buon ascolto. Tu lo sai che c'è qualcosa d'importante in quell'agenda rossa, le memorie di un uomo che aveva ben chiaro nella testa, che la verità è il suo prezzo ma deve essere condivisa, c'è una parte del paese che ha tradito e si è collusa, il dolore dell'assenza si fa strada e ti conduce con pazienza, nel profondo del tuo cuore ormai provato che custode di speranza, ora sai che il testimone passerà tra le tue dita, non la vede più paura, coraggio rita a noi, non sarebbero i, continueremo senza fermarci per costruirci un noi, lo porteremo a noi, il testimone sarà normale come giocare, tu lo sai che c'è qualcosa di più importante di quell'agenda rossa, il ricordo di un uomo che ha lottato per la vita stessa, che la memoria non è diverne al passato, ma nel futuro non è ancora costruito, e ricordando tutto ciò che è vita, ti diremo grazie, rita a noi, non saremo eroi, continueremo senza fermarci per costruirci un noi, lo porteremo a noi, il testimone sarà normale come giocare. Tu lo sai, quanto è difficile cambiare il vecchio modo di pensare, di un adulto arrogante, deluso ed induito come sale, se potessero dissolvere nel mare, tutto quello che non riescono più a dire, ricordando che esiste un'altra vita, ti diremo ancora grazie, rita a noi, non sarei veroi, continueremo senza fermarci per costruirci un noi, lo porteremo a noi, il testimone sarà normale come giocare, guardami ancora con gli occhi tuoi blu, che di paura qui non ce n'è più, il cambiamento ora saremo noi, sarà normale, non saremo eroi, non saremo eroi, non saremo eroi, non saremo eroi. Grazie, Marco Ferrini alla voce, Giuseppe Sanfilippo, fisarmonica, Mirka Damo, l'essentro da. Buongiorno,